Siamo al porto di Catania, precisamente al molo dove è ormeggiata la Joe Bartens, una delle due navi, l'alta e la Humanity One, che sono ferme nel porto della città siciliana con alcuni migranti a bordo. La situazione è di generale resistenza, resistenza da parte del team legale della Humanity One che ha annunciato due azioni legali e di resistenza anche da parte dei migranti che sono a bordo, infatti tre migranti si sono gettati in mare per protesta e sono stati salvati, al momento stanno bene. Il mio ruolo a bordo è SAR, il Search and Rescue Team Leader. La situazione adesso a bordo è molto difficile, stiamo trattando di fare tutto lo che possiamo per mantenere le stazioni sotto controllo, ma è quasi impossibile perché questa stazione non è normale, è estrema e ogni minuto è migliorando. Siamo veramente preoccupati di cosa possa succedere nelle prossime ore. Non possiamo dire che cosa va a succedere, ma tre persone sono ancora buttate in acqua, quindi siamo preoccupati di a qual punto forse altre persone iniziano a fare lo stesso. stiamo facendo tutto lo che possiamo per impedire questo e per la propria sicurezza delle persone, ma siamo tanti preoccupati, veramente preoccupati. È vero che la salute fisica è lo primo che si può vedere, ma la salute mentale è una razione perfettamente valida per essere fuori dalla nave. Per me la questione è che non è possibile di fare questa valutazione psicologica in due minuti, non è possibile. Volevo dire che le persone che possono andare via, le persone che devono rimanere per motivi psicologici in due minuti, non è vero, non è possibile. Stiamo facendo due azioni legali. Una prima è quella più immediata, un ricorso d'urgenza. Noi siamo procuratori taglieri dei 35 profughi che sono accolti in questo momento sulla Humanity e quindi per loro abbiamo intanto inviato le richieste di protezione internazionale che tutti hanno deciso di manifestare. Successivamente abbiamo predisposto e depositeremo nelle prossime ore un ricorso d'urgenza per affermare, affinché il Tribunale di Catania affermi il diritto di queste persone a sbarcare. Quindi il diritto che si chiede è questo, non si chiede altro, non si chiede di riconoscere il diritto a rimanere o il diritto alla cittadinanza o altro tipo di promesso, diritto a sbarcare. Poi ovviamente ne consegueranno tutte le conseguenze del caso, quindi chi è richiedente a silo proseguirà nella sua procedura, chi non lo è proseguirà nella sua procedura, probabilmente anche con un rimpatio. Però è diverso, una cosa è parlarne in uno stato di diritto, come l'Italia, quindi dentro la banchina, una cosa è parlarne con le persone sulla nave. Quindi questo è il primo ricorso che stiamo predisponendo. L'altro invece è un ricorso a nome della nave che ha ricevuto una notifica di allontanamento dal porto, una volta che appunto sono state sbrigate tutte le operazioni di primo soccorso. Il capitano ha deciso di non ottemperare quest'ordine, secondo noi legittimamente decidendo così perché eseguire l'ordine sarebbe un atto illegittimo perché metterebbe a repentaglio le persone che sono stipate in sicura naveta da due settimane in attesa di un porto sicuro. Soprattutto perché è stato riconosciuto che delle persone lì sopra avevano bisogno di un porto sicuro, è stato dato il porto sicuro, però non è sicuro per tutti evidentemente. Parliamo di tante persone che ieri hanno avuto anche difficoltà a recepire l'informativa che noi abbiamo dato perché ci sono diverse lingue, ci sono tante persone che sono analfabete perché da come poi hanno sottoscritto la procura e la manifestazione si vedeva che chiaramente non avevano delle competenze tali per capire la situazione, anche perché si doveva immaginare che sono arrivate a un passo dal loro obiettivo, quindi non possono capire. Forse neanche noi possiamo capirlo, a maggior ragione loro, perché non possono sbarcare. Grazie.